Idoli che non hanno vita, il vero Dio ha mandato suo figlio nel mondo per salvarci dalle tenebre, dal peccato, dall'inferno. Credete alla Bibbia, credete nel Signore, non in questi idoli. Questi idoli hanno occhi ma non vedono, bocca ma non parlano, piedi ma non camminano, sono idoli, sono idoli, sono falsi idoli che un giorno saranno distrutti. Bisogna credere nel Signore dei Signori. Abbandonate l'idolatria, popolo di Trani, perché Gesù Cristo verrà dal cielo, apparirà come una folgore dall'Oriente fino all'Occidente. Egli verrà, alleluia, come un ladro nella notte a giudicare la terra, questa terra piena di peccati, questa terra piena di ingiustizie, questa terra corrossa sarà giudicata dal Dio vivente. Perciò riconoscete la verità, la verità vi renderà liberi, la verità è Gesù Cristo, il Signore dei Signori, l'unica salvezza è Gesù Cristo. Leggete il Vangelo, leggete la parola, popolo di Trani, uscite dal peccato dell'idolatria, non seguite le false tradizioni, i falsi dogmi. Dio è Spirito, il Signore non si trova nelle statue, nelle immagini di pietra, il Signore non si trova nelle immagini fatte dall'uomo come queste immagini false. Il Signore è il Signore è il Dio della gloria, il Re dei Re, il Dio che vive nei cieli, alleluia. Non offendete Dio con queste immagini abominevoli di false figure. La Bibbia dice di non fare immagini, sculture, di pietra, di legno, di bronzo. Lo dice la Bibbia, ma questi falsi seguono l'idolatria perché c'è il business. Ma il vero Dio, alleluia, è il Dio del Cielo, il Dio che ha mandato Gesù a salvare i peccatori. Gesù ti vuole salvare, Gesù ti vuole perdonare, Gesù ti vuole liberare dai tuoi peccati. L'unico che perdona dai peccati è Gesù. Non devi andare dal prete. I preti non possono perdonare perché anche loro hanno l'acqua fino al collo. Anche i preti sono pieni di peccati. È solo Gesù che perdona. Alleluia. Alleluia. È solo Cristo che morì per te. Questi idoli vi ingannano. Il vero Dio non è in queste statue. Immagini di pietra che la Bibbia dice hanno occhi ma non vedono. Bocca e non patti. Ti può parlare quella statua? No. Allora perché la Veneri? Sono idoli. Lo dice la Bibbia. Alleluia. Ma la Chiesa romana vi ha ingannato perché hanno interessi loro. Monetari. Cercate la verità. Alleluia. Oh, alleluia. Cercate il Signore Gesù Cristo. Noi siamo venuti a predicare la verità in questa cittadina. Siamo predicatori del Vangelo. Gloria a Dio. Il Signore non è in una processione. Alleluia. Il Signore non è in quelle immagini. C'è i preti fuori dalla Chiesa. Il Signore non è in un tempio pieno di oro, di lusso, di ricchezza. Dobbiamo cercare Gesù nella parola. Cercatelo nella parola. Cercate la verità. La verità vi farà liberi. La verità vi vuole illuminare. La verità è Cristo. La verità è Gesù, il Figlio di Dio.